30-05-2023 Cosa è successo ieri se non nella fine? La morte del calcio italiano La credibilità di un intero sistema presa a martellate Presa, sprangate e distrutta davanti agli occhi di milioni di tifosi nel mondo Cosa è successo ragazzi? Andiamo con ordine Qualche giorno fa la Juventus si avvale dello strumento Per carità l'esito messo a disposizione della ridicola giustizia sportiva Ovvero il patteggiamento Cosa chiedeva la Juventus? Ripeto, l'esito Chiedeva di cumulare tutte le penalizzazioni all'interno di questa stagione Per poi pianificare con più calma il futuro Non voleva sapere di che morte morire In poche parole, detto proprio spiccia spiccia Succede che quindi la sentenza in primo momento Che doveva essere in qualche modo svolta giorno 15 giugno E viene anticipata alla giornata di ieri Una sentenza ragazzi che comprendeva numerosi filoni investigativi Perché avevamo in gioco l'illecito sulla manovra stipendi enorme Oltre 90 milioni nascosti dal bilancio da parte della Juventus Comprendeva partnership con società amiche, agenti collusi eccetera 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 Una sentenza che tutti gli avvocati Enormi avvocati Parliamo di nomi di spicco della magistratura italiana Avevano definito molto più grave Ma molto più grave Dell'inchiesta Plus Valenze Cosa succede ragazzi? Finisce tutto A Tarallucci e vino la Juventus Per aver praticamente gonfiato il bilancio in ogni modo possibile Nascosto, pagato in nero stipendi Paga semplicemente 718 mila euro di multa Arrivederci e grazie E finisce tutto così L'ennesima barzelletta del calcio italiano Che ha visto cancellare nel passato società Dall'oggi al domani come il Chievo Per un decimo di quello che ha fatto la Juventus Finisce tutto a Tarallucci e vino Con una Juventus che pagherà questa ridicola multa E continuerà a pianificare il futuro Pianificare le magagne future E ci possiamo dare appuntamento Tra 10-15 anni in tribunale Quando usciranno nuove cose Ragazzi quello che è successo ieri È veramente sotto gli occhi di tutti Ed è uno scandalo enorme A questo punto fortunatamente Ne escono tre tipi di Juventini Abbiamo il tifoso Juventino ferito Dalla sua società che si allontanerà dal tifo Beato lui che ci riuscirà Tifosi Juventini che praticamente Già dopo Calciopoli avevano detto addio a questa squadra Fortunatamente i nuovi giovani Con un po' di raziocinio di oggi Vedendo quello che è successo Vedendo quello che si è consumato Vedendo e paragonato soprattutto a sentenze del passato Per altre squadre Decideranno di allontanarsi da questa squadra Poi vabbè ci saranno i soliti tifosi Juventini Da TSO Che si proclamano innocenti da Calciopoli E tutt'oggi Dicono di essere ingiustamente Perseguitati dalla procura E va bene Stendiamo un velobito super loro E poi ci saranno anche qui I tifosi Juventini Lecitamente innamorati Della propria squadra Perché ragazzi La passione verso la squadra È un qualcosa di viscerale Non si può controllare In maniera razionale Che però in maniera giusta Chiederanno agli Elkan Chiederanno di vendere La società Juventus In mani stranieri In mani sicuri In mani non ammanigliate Per in qualche modo Cercare di pulire nel tempo In molto tempo L'immagine della Juventus Ma non è finita qui Perché cos'è successo? Non sono stati dati I punti di penalizzazione Alla Juventus E questo è stato Un doppio assist Alla società juventina Perché qualora L'Europa decidesse La UEFA decidesse Di sospendere la Juventus Per le coppe Da un solo anno Gli fanno anche un piacere Perché gli eviteranno Di giocare Praticamente La Conference League Che è più un impiccio Che altro Per una società Come la Juventus A questo punto ragazzi Ci resta che sperare in cosa? Ci resta che Sperare in Ceferino Chiamato così Da Mastrangelo In Ceferino Affinché Esaminando Le carte E Gli enormi Illesiti Che ha compiuto Negli anni la Juventus In questi anni Deciderà di escludere Non dall'Europa in generale Ma dalla Champions League Per uno e più anni La Juventus Ragazzi Quello che è successo ieri È qualcosa Che veramente Non lo so È Allucinante Il mio amico Joe Del canale Josipiosa Me l'aveva detto Me l'aveva detto Me l'aveva detto Tutti illudi Che possa essere fatta Giustizia In questo calcio In questo ambiente Colluso Ma d'altronde Ragazzi Il primo campanello Il primo campanello D'allarme L'avevo fatto scattare Con quello shorts Scagliandomi Contro le parole Di gravina Il presidente Della FIGC Che da oggi Possiamo tutti Chiamare FIGC Che ha detto Praticamente Un giorno prima La sentenza Sulle plusvalenze Fittizia Il brand Juventus Va tutelato Ragazzi Il brand Juventus Va tutelato Ha detto Questi Mane porcate Il presidente Della FIGC Colui che deve Mantenersi Superparters A quest'obbligo Di mantenersi Al di fuori E poi Commentare Posteriormente Alle sentenze Tutto ciò Che magari Sarebbe Successo Ragazzi Purtroppo È un qualcosa Che non si può Descrivere Non si può Dire A parole Ripeto Avvocati Non io Non voi Non comuni Tifosi Avvocati Avevano messo In guardia La Juventus Praticamente Facendosi Portavoce Di una Manovra Stipendi Molto Più Grave Di quello Che è successo Durante Le plus Valenze Fittizia Molto Ma molto Più Grave Finisce Tutta Tra luce E vino E non è Un caso Che il Ministro Abodi Subito Dopo Questa Sentenza Dice Mi Raccomando Che non Passasse Il messaggio Che il Patteggiamento Della Juve Significhi Una Diminuzione Della guardia Su come viene Gestita Una società Perché ragazzi È normale Che adesso Hanno creato Un precedente È molto più Semplice Questo giorno Invitare Le società A dire Vabbè dai Prendiamoci Messi Scriviamo A bilancio Che prende 7 milioni L'anno Poi andiamo Da Neymar Scriviamo A bilancio Che prende 11 milioni L'anno Perché tanto Poi 9 milioni 10 milioni Ne li diamo In nero Ragazzi La Juventus Per aver messo Dal bilancio Oltre 90 milioni Di euro Se ne esce Pagando Una ridicola Multa Di 718 milioni E la cosa Scusate Scusate 718 mila euro Mila euro Una cosa Ridicola Per una società Come la Juventus E la cosa Ancora più Triste E che purtroppo Le passioni Non le puoi controllare Noi tifosi Saremo sempre qua L'anno prossimo A tifare E a soffrire Per le nostre squadre Illudendoci Che dietro Ci sia Un sistema Pulito Purtroppo ragazzi Dopo quello Che è successo ieri È sotto gli occhi Di tutti Il marcio Che c'è Dietro questo sistema Colluso Sperando che La magistratura Possa In qualche modo Far luce Negli anni E possa Soprattutto Fare Piazza Pulita Di quelli Che sono Inciuci Dietro il palazzo Della FIGC Perché purtroppo Se è in tv Dice una cosa del genere Viene fatto fuori Come sono stati fatti fuori Enormi giornalisti del passato Che non mostravano Il dovuto Servilismo Un applauso Un applauso Per l'ennesimo dramma L'ennesima barzelletta Italiana Finita tutti A Tarallucci E vino E con questo Vi saluto Che tristezza Grazie a tutti